Ciao a tutti ragazzi sono Adri, bentornati sul mio canale, siamo finalmente al colpo, la versione elicottero più sottomarino, la versione B del colpo come da titolo, nel mentre vi invito a lasciare like al video, a iscrivervi al canale, a seguire la serie che insomma anche è un gioco vecchio, rimasterizzato, è molto interessante e noi andiamo direttamente allo Santos perché questo colpo sarà molto molto tosto. Dai E c'eravamo lasciati qui, esattamente due missioni fa, con la preparazione, andiamo all'appartamento di Floyd, perché? Fate esplodere l'elicottero Ho già perso, è fantastico E questa volta c'è solo Michael Eccolo La cazzina è differente però You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps How's the leg run? Oh, it's excellent! You wanna go? No, I'm good though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. The fuck are you talking about? Shut the fuck up Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out and we get twenty percent. Well, unless of course you go states again and have me arrested. Hey. It wasn't like that. Better not have been. I mean like you give a fuck. Oh. See I give a fuck Michael. It's a position. A fucking viewpoint, all right? Like God. Like evolution. Like anything else. Sunshine, boredom, lies. That's what we got. Other people, they have other worlds. But for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses. You know, a carrion-eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd. All right? Now, Floyd's not the fuck. Get out of here. All right? He puts me onto Meriwether's security. We were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up. I guarantee no problems. No major heat. Let's get going, all right? Let's take our slightly pasted vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right? Let's do this, you fucks! Belli, tutti i men in black. Sandy Shores airfield, bro. Ah, Michael, che guida non la scala, ma la macchina di Trevor. E ci ha con un po' di giubbotto anti-proiettile. Non male. Sandy Shores? That's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there easy. I've been told your generation are a workshop repeatedly, but this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle class thing. Where I'm from hustling is still hustling. And going halfway across the state is still love. Going halfway across the state... Aspetta, ma a 6,17 km stiamo andando alla pista, che palle. T.P. Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated. If it's T.P. Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just say it. You're mocking me. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off. But still, Trevor, it's a business. Michael, an honest American business. And there aren't many of them left. Hey, you know this... Hey, look the fuck out. Hey, you know this airstrip we're going to, we're managing. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The lost motorcycle club. Ha 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 ha. Yeah, you're a serious businessman. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of youths. That's just what this world means. Fuori dalle palle. Mmm, non riesco a fare lo slalom. It would be Darwinian. Hey, look, dude. We're helping you out. And if you think you'd be better off on your own... No, 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 hey, look, hey. Certo, come cambia Trevor da quando parla con Michael a quando parla con Franklin. Cioè, ok, è sempre Trevor, però Franklin non l'offende, non... E' apprezzabile sta cosa. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get in to set submarine that... Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Ah, flying lessons. Right. You know, I was gonna... And then... A chi se ne frega delle lezioni di volo. I'm a total idiot. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. Gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flyin' out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's contested. I'll get it, surface, and you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The test are being run by Merriweather Security Consulting. Ah, yes. The mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Ce l'abbiamo fatta. Il viaggio della speranza, raga. A prototype like this. The government was relaxing. And everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mince some serious coin. Sapete tipo tirare una bomba adesiva su? E' il camion lì. Tanto rilascia il rampino, vai. Sali. Perfetto. Non si sa come l'abbia agganciato, però l'ha agganciato. Paleto? Così lontano? Cioè lontanissimo da dove abbiamo fatto la missione precedentemente. È rilassante però la prima persona. E' bello che quando l'ho fatta per PS4, la campagna di questo gioco, l'ho fatta tutta in prima persona, sono stato massacrato da voi, da tutti. No, scherzo, non da voi, però. Ma per alcuni iscritti, non iscritti soprattutto, massacrato, raga. Che poi, se io fossi tre vorrei essere sballottolato così mi piglierebbe malissimo, tipo, avrei già vomitato dieci anni di pasti. Si. All right. All right. It was us. Of course it was us. Any other clouds would be in Follingbrook now. No, there were some weak points. I mean, whoever said that cheesy line to the parking guy. Fat guy. Amateur. Yeah, show us how it's done then, T. If you're such a professional, this job will go great. Lasciatemi stare, per favore Allora, la piattaforma è questa Possiamo rilasciare qui Ok Allora E' di qua Giù Minchia, 80 metri a profondo sto mare, oh Non sono andato giù per niente Zio però Oh Ok Si è ripiantato nei coralli Ghi, come ti faccio qua qua? Ah, sto stavendo in l'abissio e mi piace Micheal Mettete sulla retta via, vai Vedi qualcosa di interessante? Siamo a 120 metri di profondità Eccolo Sono squalo Immaginate uscire Adesso Non ti sposto lo squalo Ricominciamo 174 metri di salita Sembra una supposta gigante Eccolo Seismic suppressor Per combattere Tsunami O, no Potenzialmente È come un reattor di fusione Rai sull'acqua Come nucleare? Eccolo Buon tipo di nucleare Eccolo 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 Ci siamo Vedo l'acqua Vedo la superficie A posto Adesso penso Venga la cosa più difficile da fare Ovvero Riagganciarlo Ok Sta andando bene No 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 Oh Oh Dio Bonino Ok Bene Radio Bello che le due versioni del colpo Non mi ricordavo chi fossero Una da una parte Una dall'altra della mappa Però adesso Poiché nella versione solo sottomarino L'abbiamo rubato da una barca Che è stata affondata Ecco sapevo Ma il cazzo fanno a saperlo Che siamo qua E Stavo dicendo L'abbiamo dovuto riportare indietro Perché sono succedendo dei casini Ma adesso che siamo andati a recuperarlo in fondo al mare Non dovrebbero esserci i casini Credo Però quanto pare ci hanno visto Quindi la situazione non cambia Sì però se sto coglione non si mette Ah Dicevo mettere io Ok Anche te è fuori Cadici sulla strada Invece no Here they come More of these Meriwether choppers Right there Oh Oh Fuori uno Fuori due Oh da dietro Sparali Sparali razzi Sparali Io sparo prima di te Ma non potevo continuare con Franklin eh Guidava lui Spesamente non me lo fa riprendere I told you That was Meriwether Those choppers And I ain't normal private security guard Yeah you're right I have it on good authority That they're actually a lizard army Who've taken human forms Due to the fitting of the new world order I hope you can flip this thing fast And I don't want to see those reptile buddies You're ever again Non mi dite che ho fatto 50% Perché non ci crederò mai Non ho fatto sicuramente neanche 100 eh Però Dai meno 50 me lo devi dare Cioè scusa Meno il 60 me lo devi dare Tassativo Allora Vabbiamo adesso Un pochino più preciso A posto Non si roppe quel coso No? Non importa, ok? È finito, abbiamo già fatto! Oh, possiamo poterlo tornare in giù in un giro per il tempo che si mette una operazione salvaggia? No! Oh, so vuoi una drone circolando il tuo trattamento? Vi farvi un'altra scuola, Trevor. Tu omi! Wait, get in that chopper! Listen to whatever this fucking moron has to say! Ok! All right, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score! Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these lifts. Mica, ce l'ha con sto colpo lui. Così tanto sangue per delle testate. Guadagno zero! 75%! Neanche così male! Solo che... Era un colpo... Pensato da... Da Trevor, ma pensato male. E comunque non c'è guadagno. Si può salire? Anche se siamo sulla terra? No, vabbè. Assurdo. Cioè, fatemi capire. Ok. Fantastico. Dunque, ragazzi, vado a salvare. E con questa vi saluto. Messa benissimo sta macchina. Soprattutto nuova. Ah, brother O'Neal. F*** you, man. Whoa, whoa, whoa. You're the guy stealing contracts. You burnt a farm. Killed my brothers. You had too many brothers. They needed culling. You're a f***ing kid. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come f***ing find me. Vespucci Beach. Los Santos, you inbred hillbilly f***. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Ok, t'aspetto. E io vi saluto. Grazie della visione, bimbi belli. Noi ci vediamo per la missione prossima. Che dovrebbe essere con Michael, se non mi ha derrato. E grazie, ragazzi. Un bacione a tutti quanti. Restate connessi. Da Adri. È tutto. Grazie, ragazzi. Beep, beep, beep. Beep.